E' arrivato il momento che il Ministero dei Trasporti, che ha competenza ispettiva, ci dica se le condizioni di manutenzione della rete ferroviaria, il personale in servizio per la manutenzione e la gestione del servizio, anche in tempo di ferie, sono tali da consentire il normale esercizio ferroviario. L'assessore a trasporti e infrastrutture Vincenzo Ceccarelli interviene duramente sulla situazione che negli ultimi giorni ha creato forti disagi a molti pendolari toscani. La Regione continua, fa tutto quanto è nelle sue possibilità, monitorando sulla base delle informazioni ricevute in questi giorni, in modo non costante e adeguato rispetto al protocollo sottoscritto con trenità all'RFI, ma può solo applicare sanzioni penali previste dalla legge o dai contratti. Vorrei sgomberare il campo da ogni possibile dubbio, insiste Ceccarelli, la Regione è perfettamente consapevole dei disagi che in questi giorni deve sopportare una parte dell'utenza del servizio ferroviario regionale. I nostri ispettori fanno centinaia di controlli, leggiamo decine di email che provengono dagli utenti, riceviamo report dai gestori del servizio. Tutto questo però non ci consente di sostituirci ai soggetti che devono garantire servizi. È evidente che ci sono gravi carenze in una quota parte del materiale rotabile che Trenitalia utilizza per i servizi, con particolare riferimento ai treni che provengono dall'Umbria e che non sono di nostra competenza. Una situazione vergognosa che ha superato di gran lunga i limiti della decenza. Se RFI e Trenitalia non sono in grado di gestire il servizio, facciano festa. Non usano mezzi termini i deputati di Alternativa Libera, Massimo Artini e Samuele Sigoni, sui gravi disservizi del trasporto ferroviario toscano e annunciano. Presenteremo nelle prossime ore interrogazioni al Ministero dei Trasporti, RFI e Trenitalia perché migliaia di persone hanno fatto i conti con una situazione da terzo mondo, senza che nessuno paghi per questo disastro. È indecoroso che RFI, per il problema degli incendi, scarichi il barile sulla mancanza di pulizia delle sterpaglie. A chi compete la gestione della rete? Intanto, anche stanotte, un nuovo incendio nei pressi di Laterina. Per fortuna, nessun disagio per la circolazione.